E adesso andiamo a Barletta che è stata scelta dal neoassessore regionale al welfare Rosa Barone, esponente del Movimento 5 Stelle, come prima uscita pubblica. Ha fatto un sopraluogo nella casa di riposo Regina Margherita, in cui manca il presidente del Consiglio di Amministrazione e su cui pende un debito da 600 mila euro. Analizzeremo, ha detto l'assessore Barone, la situazione e proveremo a trovare delle soluzioni, ma senza fare promesse che poi potrebbero non essere mantenute. Francesco Rossi Noi come amministrazione comunale siamo fermi perché aspettiamo le decisioni della regione per quanto riguarda la nomina del presidente che, come sapete, si è dimesso. Abbiamo aspettato la nomina dell'assessore al welfare, la dottoressa Rosa Barone, che ha accolto l'invito di venire questa mattina per conoscere la struttura e quindi per condividere con lei dei percorsi da attuare al fine di rifunzionalizzare questa struttura bellissima e di restituirla alla fruizione pubblica, atteso che la richiesta di persone anziane che vorrebbero ritornare nella propria città, facendosi anche curare e attenzionare i propri parenti, è molto importante. È anche un problema, soprattutto forse di natura economica, perché la struttura ha un debito di circa 600 mila euro, che ovviamente non dipende dall'attività dell'amministrazione comunale, anzi l'amministrazione comunale ha fatto una donazione modale affinché si potesse costruire questa nuova ala e quindi noi come istituzione comunale abbiamo nominato i membri del CDA, ma senza Presidente, senza la nomine di questa Presidente, senza l'intervento dalla Regione, che noi ospichiamo risolvere il problema, non si potrà fare nulla. Noi come Movimento 5 Stelle ci siamo sempre interessati a una struttura del genere, soprattutto grazie al lavoro intenso fatto dalla mia collega Grazia Di Bari, quindi sicuramente ora andremo a visitare la struttura, vedremo e studieremo il caso in maniera approfondita in modo da poter risolvere. Certo non vogliamo neanche dare illusioni perché ci sono problemi di soldi, debiti, quindi insomma la cosa è anche abbastanza seria, però d'altro lato è una potenzialità enorme per il territorio, per gli anziani e anche per le famiglie, immagino di Berletta, che in qualche modo sia per il lavoro che potrebbe svilupparsi internamente, sia per la possibilità di accogliere in maniera pubblica, attraverso dei servizi pubblici degli anziani del Paese, della città, penso che sia abbastanza una buona opportunità da accogliere. però è ovvio dovremmo assolutamente interessarci in maniera seria, non vogliamo appunto fare promesse che non possiamo mantenere.